Musica Ragazzi, io mi chiamo Biancio e benvenuti Su questo nuovo video Questo nuovo video Siccome domani uscirà Jurassic World 2 Il regno distrutto Non lo andrò a vedere domani Anche se esce domani Che fino al giorno 13 E io ve lo vado a vedere giorno 8 Prima aspettate Guardate Come promesso Sono con la maglia Di Jurassic World Vedete Ma non parlo anche di questo Parlo anche Su come fare Le cassette per DVD E ho scoperto Una nuova cosa Sulla foto E ve la faccio vedere Buona visione Raga Guardate qui E qua Vedete C'è scritto Jurassic World Il regno distrutto E questo è per DVD Ma ancora Non è uscito Prima al cinema Lo devono fare E come cinema Ieri Come Locandina Ieri ho visto questa E anche Là Sullo shopping Di Jurassic World Del giurassico Shopping giurassico Del video Ma perché mi avete Mandato Così Un bel video L'enciclopedia Shopping giurassico Niente ancora Non l'avete visto Beh Questo è per DVD Adesso vi faccio vedere Le altre modifiche Qua Jurassic World Vedete DVD Qua c'è scritto E questo qui È il Carnotauro Che L'ho schiacciato Il T-Rex Qua Dimenticavo No Ancora no Non voglio rovinare Quest'occasione Ops Vedete Qui Raga Un'altra modifica DVD Però Qua Lo stampo Del T-Rex Scheletro Si sta iniziando A bruciare Ovviamente Vedete Qua Non c'è Owen Con la girosfera O Claire O l'altro Personaggio Nuovo Solo il T-Rex E il Carnotauro Metà Abbattuto Vedete Raga La fondierina Che vi parlavo Su DVD C'è di nuovo Lo spinosauro Di nuovo lui Come questo qui Sulla maglia Aspettate Ve lo faccio vedere Si deve vedere Si è questo Vedete Questo qui Invece Invece questo qua E il T-Rex Ma qua State vedendo Lo spinosauro E lui Qua è dove Non è di Jurassic Park 3 E di Jurassic World 2 Il regno distrutto Il regno distrutto Qua è Ci sono altri E qua ancora Che si sta bruciando Ancora La schermata Qua vedete Raga Si è bruciato Tutto Il T-Rex Sta bruciando Ovviamente Lo stampo Il T-Rex È ancora qui Ma quello È il vulcano Quello lì Che sta per esplodere No Già è esploso Questi schizzi Di lava Arrivano ovunque E vedete Il T-Rex E si è Incendiato Ha preso fuoco Solo questo Ok Adesso passiamo Ed ecco il disastro Dvd c'è scritto Vedete Come l'ha ridotto Il T-Rex La lava La rin È in pietra Ma L'ha distrutta La pietra La incenerita Affumicata E qui Sono i denti Metà distrutti Vedete Questa è come Modifica Per dvd Quando lo prenderò E me lo rivedrò Di nuovo Sul mio Dvd E perciò La prossima Volta Io farò Un video Su PS4 Del gioco Di Jurassic World Il Regno Di Struzzi La prossima volta Però E adesso L'avete visto E spero Tanto che mettete Like E no Scusate Mettete Un mi piace E non mettete Non Non mi piace Non lo mettete Ok Bene ragazzi Spero tanto che Questo video Sulle modifiche Dvd Di Jurassic World 2 Il Regno Distrutto Sia tradotto In italiano In inglese Vi siano piaciute Iscrivete al mio canale Mi raccomando Iscrivetevi Lasciate like Ah Dimenticavo Qua Vedete Anche sulla prima Inizia Quando Stavo iniziando C'è scritto Un days Significa Un giorno Manga Per uscire Il film Ok Ci vediamo Domani Per un prossimo Video Ciao Rega